Salve a tutti, benvenuti a guardare questa serie su MBCO24 con i nostri Nationals Seconda partita in casa di Giants di San Francisco Vediamo come ci andiamo a giocare, diciamo più che altro Voglio vedere un attimo in che condizioni ci andiamo anche come lanciatore E porca mi se no serve uno starter Serve assolutamente lo starter, serve assolutamente un altro starter Assolutamente E no, dobbiamo porre rimedio, dobbiamo assolutamente porre rimedio Wow, Free Agents, vediamo lo starter C'è Zach Grinke e Lorenzen Lorenzen o Grinke Ma io posso prenderli tutte e due Perché il Rathledge è anche starter Ma io lo uso come rilievo Alla break Lorenzen Vada per Lorenzen Reform Master Release Devo Devo rilievo a qualcuno Ok Allora Roster Allora 40 Ma a parte il fatto che onestamente io potrei Starter Pinch Magari c'è qualche starter L'abbiamo Ah Corbin l'ho messo giù Strasburg Corbin l'ho messo giù Vabbè Corbin lo mettiamo in tripla Da Tripla Corbin Lo spostiamo in tripla Tanto Corbin ok E mo che si fa Nel senso Cade Le treci cavalli Allora Attivi Vabbè che Ah Intanto una cosa Intanto una cosa Intanto una cosa Devo vederlo Devo vedere Line up Fermi tutti Dove Tenente Ora Va bene il demaro Titolare Rimane pur sempre il tenente Ok Anzi Line up Perché ecco Il titolare Rimane pur sempre il tenente Una volta il tenente Si è ripreso Il tenente gioca Ora Vediamo un po' Cosa posso fare adesso Perché io c'è un problema Che adesso Non so che devo fare Devo Allora Penso aver capito Che devo fare Allora Roster Caro Mason Johnson Caro Mason Caro Mason Te Ti sposto In AAA E Va bene Mentre Lo starter Proprio Mi serve I starter Proprio Mi servono Numericamente Corbin Corbin Devo proprio Richiamato Corbin A Sì Sì Va bene Ma io voglio Lorenzo No senti Io voglio Lorenzo Mi scusa Mi scusa Scusate voi Mi scuserete Però tipo Sto Sto John Adon 59 Questo qua Per Tipo Eh Eh Release No Sì 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 Ok Release Ciao 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 E abbiamo Rilasciato L'abbiamo Rilasciato Ora Che abbiamo Rilasciato Posso passare A prendere Lorenzen 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 Vai Lorenzen Oh Don't Dile Perfetto Ci abbiamo Lorenzen A posto E Però Aspetta A livello Di Roaster Caro Lorenzen Lorenzen Perché Sei in Fingola Tu sei Tanto Aggiungiamo I 40 E Poi Lo Aggiungiamo Lo mettiamo Nmlb Oh Dai Su E Anzi E Anzi Io a sto punto PC Rotation Dove Sei Dove Sei Lorenzen 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 Tu vai qua La Falo 5 No Lorenzen Lorenzen Io Lorenzen 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 Io Lorenzen Io Come si fa Ad aggiungerne Un altro Io volevo Ok Fa Fa niente Va bene Fa niente Fa niente Andiamo Va bene Mi sa Mi sono scontrato Con una cosa Che non sapevo Ma che c'è Il limite Massimo Di starter I 5 Starter Massimo Su 5 Voglio capire Allora Io Voglio far lanciare Lorenzen Lorenzen E che cacchio Voglio far lanciare Lorenzen Poi Per quanto riguarda La nostra formazione Allora Joey Gallo Allora Il Funky Gallo Io direi E Allora Io farei Un cambio Ma farò Di posizione Così Gallo Lo facciamo Indesignato In modo tale Che un attimo Si ripiglia Bene Ences Prima base Perché teoricamente Credo che sia Un prima base Va bene Speriamo che non faccia Troppi danni Va bene Poi Per il resto Direi abbastanza Bene Si può fare Va bene Dai E andiamo Andiamo Ho perso 7 minuti Signori 7 minuti Preziosissimi Per noi Per questa partita Per 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 noi Per voi Per tutti Allora Andiamo Intanto Io Io c'avevo i limiti Non potevo Io non Non potevo avere Lui come lanciatore In più Ma lo sono scelto Lo stesso Va bene Uguale CJ Abrams Alla Battuta Fa Va bene Va bene Ma è proprio Una regola Che Posso avere al massimo 5 starter O è Una cosa Messa del gioco Non lo so Io chiedo sempre a voi Come sapete dire Io tra l'altro Sto registrando Poco dopo La scorsa puntata Oh Sezione L'ha preso Walk No Va bene 2-1 Quindi Oh Entri Perché ho girato Perché ho girato Che sono pollo Vabbè Io ho eliminato Adesso Stone Garrett Si è fatto Un turno Di riposo Ma adesso Realizza la valida Con il primo lancio Va bene Va bene Dicevo Io non so Ditemi voi Questa cosa L'ho potuto Piazzare uguale Come lanciatore Iniziale Va bene Quindi A quel punto Non ne capisco Il senso Io intanto L'ho finito Subito Non fare punti Ho giocato malissimo Va bene E allora Signori Inizia Lorenzen Lorenzen Il Magnificent Lorenzen Prima 0-1 Poi fare Una circle 1-1 Lorenzen Ok Vabbè Penny Thomas È tua Serenamente tua A posto Prima eliminato Va bene Dai signori Dai signori Poi Qua Vai Lorenzen Ok 0-1 Poi Io direi Presto Carve Un po' più alta Lorenzen E facciamo una sinker Così Sui piedi Ah 1-2 Ok E Mo' Facciamo Carve Qua Carve All'è Oh Dai Secondo eliminato Va bene Lorenzen Va bene Lorenzen Bene Lorenzen Adesso Subito Palla Nationale Subito Ok Va bene 1-0 San Francisco Non inizia benissimo La partita Non inizia proprio Bene 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 Va bene Va bene Va bene Lorenzen Va bene Va bene E l'inizio Un attimo Va Ok Va bene Lorenzen Ok 1-1 Lorenzen Non è che stai iniziando proprio bene 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 Io non te lo vorrei dire ma 1 1 Facciamo una circle tipo così trivelata E 2 Facciamo una circle tipo invece un po' più alta Ora Oh Vabbè E si chiude 1-0 Prima l'inizio 1-0 San Francisco E Non ci voleva Non iniziamo bene Non iniziamo bene Però La partita è appena iniziata Vediamo Come va Tenente Torna il tenente Garzia In campo E si appresta la battuta 1-0 Ball Tenente E Niente Invece non va Non va niente Prima eliminato Niente Adesso Kebert Utilizza la battuta E Kebert Perché ho girato Perché ho girato Porca mese 0-1 Ah Porca mese Vabbè Battuta Niente Per fuoricampo Almeno è corta Rialminato Secondo minato Scusate Non inizia benissimo Joey Gallo La battuta Vai funky Gallo Serve una battuta Delle due Per ridare Diciamo Costanza All'attacco Dei Nationals Dai funky Gallo 0-2 1-2 Poi Sempre 1-2 Questo era un po' in dubbio Calmo Calmo Ok 2 Tende a tirare Molto forte Questo Non mi ha fregato Niente Non facciamo punti neanche Al secondo inning E adesso Dobbiamo difenderci Difenderci Lorenzen Prima Un ball Poi io direi Facciamo Slider Slider Lorenzen Niente 2-0 Lorenzen 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 Meno male Meno male 2-1 1-1 1-1 3-1 Abbiamo perso un pacco Abbiamo perso un pippone Peni lane Posto Prima del minato Meno male Meno male Ho la sensazione Che abbiamo preso Un pippone Vabbè 0-1 C'ha Overhaul Torricamente 77 Giai ha regato Un fuoricampo Alcao Però te te hai sbrigato I passettini Puoi anche farne meno Di passettini Alcao Vabbè Secondo eliminato E adesso Guido Palanation Ok Tenente No Abrams Oh perfetto Vedi Senza passettini Senza cosa Senza Fronzoli Prende Lancia Vai E allora Adesso Penny lane Thomas Alla battuta Tutto faul Va bene Va bene Calma Bella 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 Che si fa doppia Bella Che si fa doppia Doppia di Penny lane Va bene Va bene Penny Bene Penny Bene Penny Adesso Adesso Il nostro Alca Senzel Alla battuta E però La prende No No Dove Cazzo Vai Sono accorto Dopo Sono accorto Dopo E c'era Va bene Wow Sono accorto Dopo In 0-1 Ok 1-1 Dopo Che era partito Young Forever Young Forever Young La pareggia Jacob Forever Young Forever Young La pareggia Fuori campo 1-1 E Ale Già il secondo fuori campo Per lui Quanto abbiamo capito E' già il suo secondo fuori campo Grande Young Grande Young E come ti dice a Washington Va pigiala E Ale 1-1 Bene così E adesso Dice Abrams Alla battuta E' la valida di Abrams La valida di Abrams Molte non ti stai fermo lì Va bene Ok Va bene Dai Dai Sembra non essere irresistibile Adesso Rolling Stone Garrett Alla battuta E' proprio a volo No 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 Fermi Non fermi Non muovetevi Va bene così Seconda e terza base occupate Va bene Va bene E adesso Joey Menenses Alla battuta 2-4 Joy Bellissima Bellissima Fa due punti Ti fa due punti Dai 3-1 Va bene Va bene Grande Menenses Ora Tenente Garcia La battuta Tenente Wow Ma Ma Che è successo Va benissimo Va benissimo Va benissimo Tenente E' una battuta Fare una sintet Ma facciamo Finché ad alta Come va la sintet Alta Ah 0-2 Va bene lo stesso Facciamo uno slider Ma tipo così Foul 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 0-2 Sempre foul Sempre foul Ora circle Facciamo invece Alta E invece no Va bene Va bene Lorenzen Va bene Lorenzen Terzo strike out Benissimo Poi Palla fuori 1-0 Vai Lorenzen Ok Va bene Buon prima base Ok Calmi Adesso Iniziamo con la national 0-1 E io farei Riproverei questa Questa Benissimo 0-2 E fare una national Foul così Sempre 0-2 Vediamo che ci mettiamo Tanto A fare L'eliminazione 1-2 Porca miseria Porca miseria Per poco Per poco Va bene Va bene Va bene Adesso Secondo eliminato Intanto Ok 0-1 Circle Ah 0-1 Sinked Così Trivelata Trivelata Maria Meno male che ha girato Meno male che ha girato Meno male che ha girato Adesso Scav Inizio No Penny Penny Ciao Elimina No 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 Ma è arrivato prima L'ha toccato E l'ha toccato La pallina Proprio L'ha davanti Prima E toccasse la base Cioè doveva essere chiuso L'inning in quel momento Secondo punto San Francisco Eeeh Qua c'è Ci abbiamo un po' di arbitraggie contro Eeeh Io ho Un ufficio inchieste Cominciare ad aprirlo Un ufficio inchieste E qua Fuoricampo 4-3 Nuovo ribaltato la partita Questa Questa Comunque Questa è da ufficio inchieste Quello era eliminato Era chiaramente eliminato Che L'hava proprio La palla è arrivata prima L'ha toccato prima L'ha toccato la mano Lui Prima che Prima che lui Prima che lui Toccasse la base Quello era in seconda base Cioè Vabbè Eeeh Posso dire che è un po' scandaloso Vabbè Eeeh 4-3 San Francisco 2-2 Eeeh Vabbè Lorenzo E non è che stia facendo Faville Come lanciatore Vabbè ok Freak out Non sta facendo poi Faville come lanciatore Però qua E' un po' Da ufficio inchieste Io C'è Tre punti Non dovevano averli Loro Sono tre punti C'hanno tre punti Di troppo Vabbè Lasciamo stare Comunque Comunque Kaepert Alla battuta Ok No no Non andare sulla parte Va bene così Valida Valida di Kaepert Va bene Va bene Va bene Kaepert E adesso Il funky gallo Alla battuta Ok Wild pitch signori Ok Terreno Ciao 0-1 Ma va benissimo Va benissimo Adesso Far funky gallo Era strabolla Tra l'altro E ho avviato a girare 0-2 Va bene Questa è la strike Va bene Calmi 1-2 Ok 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 Porto Mi fa troppo preso Dalla smile Di girare la mazza No Devo stare tranquillo Penina di Thomas Alla battuta 1-0 Va bene Devo stare calmo Devo stare calmo Benissimo Fermi No 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 Non andare Non andare Fermi Va bene Prima e terza base occupate Va bene Va bene Ok Adesso Calmi Vai Vai Alkasenzel Questa era bollita Però Devo smettere Sto riprendendo Quel viziaccio Di girare Troppo spesso La mazza Sto riprendendo Quel viziaccio Devo Porca mita 0-2 Due strike Ho regalato Niente 0-2 Io Già l'ho chiesto La corsa puntata Non ho ancora avuto Mondo di legge Comentico Volevo stare registrata Subito dopo Quella scorsa Quindi ancora Un'uscita Forse al momento In cui sto registrando Probabilmente Me l'avete spiegato Se effettivamente C'è un limite Ai finti lanci Così Oppure no Non so Se c'è Il regolamento Tutta Benissimo 4-4 Ok E La ripare Temporalmente Almeno la ripareggiamo 4-4 Va bene Dai Adesso Forever Young Jacob Young 1-0 Dai 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 Jacob 1-0 Calma Ok Perché giro Perché giro 1-1 Calma Troppa Troppa Smane Troppa Smane Calma Tornate Invietro Dovevo farlo Non potevo farlo Andare avanti Perché sennò Vabbè Vinti Si Giavola Non c'è la battuta Adesso 0-1 Dai Abrams Staccato 0-2 Va bene Ok Bene Giro troppo Giro troppo La mazza Niente Niente E Facciamo un quarto punto Adesso vediamo se riusciamo a tenere Perlomeno Questo pareggio Stiamo andando malissimo In fase difensiva Ripeto L'arbitraggio ci ha messo Il suo Perché c'è Per una scelta scandalosa Sono arrivati i tre punti Praticamente Che è arrivato Punto dell'azione E il fuoricampo successivo Che non sarebbe dovuto esserci Proprio perché Il inning doveva essere chiuso In quel momento Ma vabbè Comunque E Questo è veramente Cose da Ufficio inchieste Ma vabbè Comunque 2-2 Adesso Facciamo Un'altra national E a left Prima eliminato Dai Dai Lorenzen Ma questo è un messo Vabbè Ora Di nuovo National Va bene 0-1 Foul Ok Poi Così 0-2 Vai Lorenzen Bravissimo E la prende subito Secondo eliminato Va bene Va bene Lorenzen Va bene Lorenzen Andiamo Subito Palla national Madre santissima Che Ruttura Slider Benissimo 1-1 Circle Alta Io ho Che sta Che sta Alta Perfetto Foul 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 Noi abbiamo Noi abbiamo fatto Il triplo Noi abbiamo fatto il triplo Dele loro Noi 9 Vali E loro 3 Vabbè Fatto Fatto 4 punti Con 3 Vali Vabbè Comunque Non sono Roninson Garrett Alla battuta Niente Problema Sempre presto Giro 1-1 Devo stare calmo Non devo avere fretta Rigirare la manza Perché 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 Vabbè, io ho eliminato Oh, stavo per dire, è bella lì che l'ha presa bene Vabbè, secondo eliminato E' in tecarsia la battuta Che palle Uno Uno Devo stare calmo Devo stare calmo Due 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 Sì Va bene, sempre due due Ok Il tenente Tenente Bella tenente Bella tenente Fermati lì, tenente Fermati lì, va bene Va bene, tenente C'è la varia del tenente Si fa un turno di battuta in più Dai E adesso? Kebert turizza la battuta E Kebert Da, vabbè Devo smetterla 0-1 Devo smetterla La lembra centrale Poi scende Bella Fermi, fermi E' valido Va bene Dai Va bene Calmo Calmo Dai Adesso il funky gallo Dai funky gallo Va bene Va bene Va bene Ok 0-1 Venga lo stesso Perché io Non riesco più Questo troppo dalla smaglia Perché Vedo che sono un punteggio Quindi devo cercare di fare i punti Invece devo stare Tranquillo Benissimo Benissimo Così L'abbiamo pure spostato gente Di base Va bene Dai Che fan di calmo Vai fan chi calmo Che chi è Dai Due Va bene Calma Calma Niente Quinto inning Non facciamo punti Adesso Tocca il nostro Lorenzen Per uno Va bene Circle Vai 0-2 Facciamo La Prendi lei Nè tua Serenamente tua Thomas Serenamente tua Prendi lei Thomas La prende Prima il minato Va bene Dai Dai signori Adesso Nuovo Nationals Ok 0-1 Poi Così Due Poi fare Una Qualta Benissimo Secondo il minato Dai Va bene Ora di nuovo Prima una National Bella lì Grande Lorenzen Allora Non è iniziato Benissimo Però Sembra ti stia un po' Riprendendo Secondo 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 strike Però adesso Benissimo Va bene E teniamo Anche questo quinto in Sempre 4-4 Va bene Intanto Tristan Beck Tristan Beck Camilo Lanciatore Come lancia Questo Va bene 1-0 Devo stare Camilo Ma C'era Ultracentrale Va bene 1-1 Arma E Va bene Prima eliminato Va bene Non Gli Navo Alla Va bene Prima eliminato 1-0 Dai Senzel 0 Vabbè 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 Mondo eliminato E Mostro Lanciatore Tosto Oh Questo è tosto Questo è tosto Vero 0-1 Paul Va bene 2 1-2 La buona Sembra si stanchi Velocemente Però Niente Sesto inning Non teniamo Io mi So Dimenticato Il Bullpen Perché Ho così Poca Gente Vabbè Map Poca gente Adesso Gli altri Dove sono finiti Di tutti gli altri Rilievi Che ho Non sono finiti Gli altri Rilievi Non è uno sceso Thompson Ma Vai 1 E 2 Doppia Dai Ok Va bene Va bene Adesso Lorenzen Ok 0-1 Poi Cerco Va bene 0-2 E Questa qua Sempre 0-2 Slider Va bene Abrams 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 Aaaaaah Ah vabbè Niente Qua 0-1 Poi Facciamo così 1-1 Cerco 1-2 Ok E Sinked Però un po' più Tua Seneramente tua Tona Penny Lane Seneramente tua Posto Teniamo Teniamo in qualche maniera Anche questo sesto inning Io non riesco a capire Che è successo Non riesco a capire Che è successo Allora adesso Cambio il lanciatore Sembra il lanci pianino Vabbè E Fall 0-1 Ancora CJ aprono Sera battuta Mr. CJ E Qua è anche Sfoglio Prima eliminato E adesso Garrett La battuta Bronystone Garrett 0-1 Calmi Tutta fa 0-2 Ok Calmi 1-2 E Quello L'altra volta Che lanciava Strano No Mazzio Spetterò ovviamente Era a girare Però Siamo Tutto presto Vabbè Secondo eliminato 1-2 1-2 1-2 2-2 Concentra Sfoglio Questo Lo chiamano Questo Lo chiamano Strike Va bene E Che ti intaglio Ho capito E Vabbè Faccio Fuori campo 1-1 SCV Ho capito Perché c'è uno in meno Perché Perché teoricamente Lorenzen è un rilievo Quindi io Prendendolo Come lanciatore Incipare L'ho tolto L'erba Di fatto L'ho tolto Dai rilievi Menenses è tua Serenamente tua Menenses Serenamente tua Posto Preliminato Dai Poi Qua Zero Poi Circle Benissimo Zero Due E Questo Così Ok Quella palla Quella palla Quella palla Curva Quella palla Non gliela Devo fargli la lancia Devo capito Devo fargli la lancia Adesso Due Due Sinked Due Siamo 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 due Autopenergy Ho capito Fabio Young è tu Serenamente tua Serenamente Tuo Posto Preliminato Dai E ora Lo so che Autopeners Ne rendo Effettamente Però L'ultimo Sforzo Ultimo Eliminato Dopodiché Andrà Due Di nuovo E niente 5 Quinto punto San Francisco San Francisco Marco Marco Lusiano Comunque Get Secondo Energy Remain Ah Ho fatto Un'altra 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 cosa Va bene Ok Adesso Tenente Garcia La battuta Questa tira forte Parte la slav La slav Vabbè 0-1 Calma Vai tenere Ok Guarda Questa Mi ha dato Io 1-1 Calma Devo stare calma E' un punto Si può fare Si può recuperare Si può fare 1-2 Va bene Bene Va bene Va bene E va Che Sfortuna Però Niente Prima eliminato E adesso Caper Turizza La battuta Caper Smettila Smettila Vare di girare Smettila Calma 0-1 Calma 1 Dai Dai Ok Ok Vabbè 2-1 Va bene Stesso Ma 2-2 Vabbè Vabbè 2-2 1 Eh niente Eh niente Secondo eliminato Stanno andando via Ma niente Secondo eliminato Fanchi Gallo Vabbè 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 E niente Ottavo Punto Ottavo inning Ci fanno punti Qua Bullpen Qua Floro Ingame Bullpen Qua ci metto Rutledge E Wimps Forse Forse Cazzo Ma Vabbè Comunque Eeeh C'è Diccio Che questo sia L'ultimo inning In fase di lancio Cerco Non mi puoi chiamarli Questi Ball Però C'è Veramente Siamo a livelli D'ufficio Inchieste Però Eh Fai Floro Cash 2-2 Poi Facciamo Slider Abrons è tua Serenamente tua Posto Primo eliminato Va bene Bene Abrons Adesso Per la prima Una Palla National Va benissimo Rens è tua Serenamente tua Serenamente tua Posto Secondo eliminato Va bene Ora Io Un'altra National 01 Eeeh Ora Circle Però Facciamo Un po' di Va bene 02 Eeeh Facciamo Slider Invece Bass Fa niente Thinked Thinked Ok 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 Stiamo calmi Siamo calmi Due eliminati E quello è tornato solo in prima Bar Garrett Posto Oh Horizon Garrett Ci tiene Ci tiene in partita Che fa Due o tre punti di stacco All'ultimo inning Sarebbe stato Di Chiaramente Diffica Recuperare Ora Uno Uno è possibile Uno è possibile Adesso Penny Lane Thomas Al battuta Cambia il lanciatore Questo Lanciaforte Va bene Lanciaforte Ok 0-1 Camilo Doval Questo è il nome Lanciatore Nooo Primo eliminato Va bene Ora Nick Senzel Per gli amici Alka Senzel Alla battuta Paul Vabbè Probabilmente chiamata Strike Lo stesso 0-1 Calma Perchè il giro 0-2 Non devo Calma 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 Niente Secondo eliminato Mocchi Batte Young Vabbè Dai Un miracolo Young Però Porca Miteria 0-1 2 early Vabbè 0-1 Veri early Sempre 0-2 Ma 1-2 Dai 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 2 2 E niente 5-4 San Francisco Questa la perdiamo Questa la perdiamo Vabbè E oh Stiamo sempre 9-3 Alla fine Non è un brutturo Lino Siamo Sempre lì Non fa male Perdere Fa male Il come Ci sono tre punti Che non dovevano Starci Proprio detto Molto chiaramente Partita un po' D'uffice Inchieste Devo dire Perché Ci sono punti Che non dovevano Starci Ma vabbè Comunque Che cosa Si dice Ma Si si va bene Ciao Valid lineups E autofix E dettaglio In terza Offering La trade Guardiamo Che offretta Alla Mi offrono Jackson Alla Player card Che è Sto Giobbe Jackson Giobbe Questo Giobbe Questo Giobbe In date Alla Lov'è Sto Giobbe Jackson Giobbe Voglio vedere Questo giocatore Voglio vedere Allora Y Che cosa Sei Tu Però Il 66 Ah Quindi tu Ah Quindi tu Mi stai offrendo Questo qui A posto Del nostro Funky Gallo Allo Allo Io No Eh Mai Ma Semmai Eh Sì sì Decline Te la piglierà Male Ma C'è Davvero C'è Il roster E Want Tell You Dice Ho chiamato Red Wings Allora Perché Perché Vabbè A un certo punto Decidi Fai te E decidi tu Comunque Eh Qua avanziamo Oh E siamo E siamo Scusate Fatemi vedere Il calendario Vabbè Comunque Signori Io direi che Per oggi è tutto E Alla prossima Alla prossima